E' partita con il piede giusto l'avventura di Pescara Parcheggi, la società che fa riferimento al Comune per la gestione dei servizi per la sosta a pagamento in città. Il primo report del presidente Roberto Core è positivo, definito fisiologico anche lieve disavanzo del primo esercizio dovuto all'adeguamento del canone che però sta entrando ora al regime. La società è sanissima, floridissima, in continua crescita anche grazie ai nuovi parcheggi che sono stati e che saranno messi a disposizione entro l'anno da parte del Comune. Non parlerei appunto di difficoltà ma semplicemente di un momentaneo disequilibrio finanziario dovuto alla fase di start up e dovuta all'entità del canone iniziale che verrà ovviamente questo gap recuperato nel corso della gestione. Tra gli aspetti più interessanti il fatto che gli incassi dell'area di risulta siano rimasti sostanzialmente invariati così come il numero dei veicoli cresciuti infatti, gli abbonamenti e il turnover delle mezze giornate ma è anche la conferma spiegato l'assessore Fiorilli che non c'è stata nessuna stangata per far cassa sugli automobilisti. L'aumento tariffario presso l'area di risulta è stato un aumento tariffario credo gestito al meglio perché ha permesso comunque agli utenti di poter parcheggiare mezza giornata con identica tariffa. Comunque c'è stata una crescita poi degli abbonamenti a 30 euro che hanno permesso appunto agli utenti che avevano bisogno di parcheggiare per l'intera giornata di avere una tariffa decisamente agevolata. Quando verranno rivisti i termini dell'accordo con la GTM all'ex FEA Pescara potrebbe avere il primo parcheggio custodito 24 ore su 24? Certo, non sarà l'unico, sarà il primo quello dell'ex FEA perché l'altro parcheggio sarà il primo parcheggio multipiano gestito dalla Pescara Parcheggi presente sul territorio del comune di Pescara che si trova nell'area del mulino e dove anche lì attiveremo un servizio di parcheggio custodito diurno e notturno. Oltre ai 300 posti al multipiano di Porta Nuova e all'entrata a regime dei 100 all'ex FEA dove si va verso il rinnovo della convenzione con la GTM, per il futuro Pescara Parcheggi si prepara a concorrere ad un ambizioso progetto europeo per bike e car sharing finanziato per circa 500 mila euro.